Firenze e Scandicci In direzione Roma rallentamenti per una perdita di carico tra Roncobilaccio e Aglio In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa Spostandoci in A12 code a tratti per lavori tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova Sulla FIPILI code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze Rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!